In questo video tutorial vediamo un sistema per poter realizzare una recinzione a rete metallica. Nello specifico è una recinzione a rete metallica per un impianto sportivo. Per quanto riguarda i campi da tennis sono degli oggetti della libreria standard di Archicad. Per realizzare la recinzione come prima cosa vado a creare un materiale da costruzione. Vado a selezionare un materiale già esistente, nello specifico acciaio finitura, e lo vado a duplicare. Una volta rinominato vado a selezionare un materiale di superficie da associare a questo materiale da costruzione. All'interno dell'elenco dei materiali di superficie disponibili nel template standard di Archicad abbiamo già un materiale denominato metallo recinzione a rete ed è quello che andrò ad utilizzare. La particolarità di questo materiale di superficie fa nel fatto che è una texture che identifica appunto una recinzione a rete e permette già di avere dei montanti verticali. Questo renderà la nostra recinzione estremamente leggera, proprio perché avremo pochi elementi tridimensionali che Archicad dovrà andare a calcolare. Una volta creato il materiale da costruzione confermo con ok e vado a lavorare sul muro. Utilizzerò il muro per creare la recinzione. Per quanto riguarda l'altezza mantengo 300 centimetri. Per quanto riguarda il materiale da costruzione andrò a selezionare il materiale che ho appena creato. Imposto uno spessore di un centimetro. Una volta fatte queste scelte confermo con ok e vado a disegnare la recinzione su tutti i campi da tennis che ho all'interno del modello tridimensionale. Una volta inseriti i quattro muri possiamo vedere che abbiamo già la simulazione della recinzione dell'impianto sportivo. Ora posso andare a inserire la recinzione di divisione tra i campi. Una volta inserita la recinzione ora vado a inserire le aperture in modo tale da poter entrare nei campi da tennis. Mi sposto in pianta, vado a selezionare lo strumento porta. Utilizzerò una porta o un battente. Imposto come tipo di anta della porta lo stile 1. Poi vado a impostare alla voce in fissi arredi il fatto di non vedere l'intelaiatura esterna e interna. Questo mi permetterà di avere un anta senza intelaiatura. All'interno della voce telaio e anta vado a selezionare spessore telaio uguale spessore muro. Adesso vado a lavorare sui materiali di superficie. Seleziono attributi modello. Per quanto riguarda il telaio esterno e il telaio interno vado a selezionare il materiale di superficie metallo ferro e metallo ferro. Per quanto riguarda invece il materiale di superficie dell'anta vado a selezionare il metallo che ho utilizzato per la recinzione. Sia su una superficie e sia sull'altra. Vado a impostare il dimensionamento della porta e posso ora confermare con ok. In pianta vado a inserire la porta all'interno della recinzione. Il fatto di aver usato dei muri mi permette di essere estremamente veloce anche nell'inserimento delle porte d'ingresso ed eventualmente delle porte di collegamento tra i vari campi. Visualizziamo in 3D quello che abbiamo fatto e possiamo vedere che le porte risultano con la stessa superficie della recinzione. E possiamo vedere che il modello tridimensionale è particolarmente veloce nei movimenti proprio perché abbiamo solamente dei muri e la recinzione è una simulazione fatta da una superficie per cui da una texture. Per quanto riguarda l'aspetto bidimensionale in pianta l'utilizzo dei muri è comodo proprio perché possiamo inserire delle aperture. Per quanto riguarda le eventuali sezioni o prospetti il fatto di utilizzare delle superfici ci permette di avere associato a queste superfici dei retini. In questo caso abbiamo un retino che ci permette di simulare la rete. Ecco quello che abbiamo visto è un possibile sistema per la creazione di una recinzione a rete come quella che hai avuto modo di vedere ed è un sistema secondo me particolarmente comodo proprio perché permette di essere veloce nella realizzazione e sicuramente estremamente leggero per quanto riguarda l'aspetto tridimensionale e il movimento del modello all'interno della finestra 3d di Archicab.